Ciao a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del Let's Play di Minecraft. Nella scorsa puntata ho tolto il recinto delle mucche che oramai stazionava in questa zona da tantissimo tempo e l'ho sostituito con una bella stalla che vedete sotto di me che contiene tutti i tipi di animali. Dai commenti ho visto che questo lavoro vi è piaciuto davvero tantissimo anche perché tra le altre cose ho sistemato un pochino i sentieri attorno alla mia casa. Vi ringrazio per tutti i commenti che avete lasciato e mi raccomando anche oggi di lasciare subito un like a questa serie che ragazzi ha bisogno veramente del vostro sostegno. Oggi inizieremo un progetto top secret. Sì ragazzi non so se oggi andrò già a rivelarvi di cosa si tratta perché inizieremo con un meccanismo che andremo a costruire nella stanza della mappa. Ed eccoci qua nella famosa e misteriosa stanza della mappa. Misteriosa perché questa stanza contiene diversi segreti. Ci sono dei meccanismi abbastanza nascosti. Per esempio qua sotto c'è il meccanismo che apre le librerie e nasconde una cassa con dentro i libri con le vostre domande. Poi qua sopra c'è un meccanismo a combinazione che apre un passaggio segreto verso la stanza che contiene il libro degli iscritti fino ai 100.000. Questo è anche un meccanismo a cui tengo veramente tantissimo perché c'è un libro molto molto importante non solo per la serie ma per tutto il canale. E infine recentemente ho costruito un altro meccanismo abbastanza celato qua sotto la scala che dovrebbe portare alla stanza dedicata agli ospiti che sono stati nella mia vanilla. Per il momento ho avuto solo Eren come ospite però in futuro è probabile che ne inviti degli altri. Questa stanza però non l'ho ancora decorata perché come ben sapete io devo avere l'idea giusta per fare le cose e dato che ho avuto un solo ospite ho voluto aspettare prima di terminarla. Ho lasciato quindi da parte questo progetto che riprenderemo più avanti. Oggi però andremo a costruire un altro passaggio dietro una libreria ovviamente con un meccanismo diverso da quello che vi ho fatto vedere sopra a combinazione che porterà a un'altra stanza molto particolare. Il meccanismo che andremo a vedere oggi apre sempre un passaggio due per uno all'interno di questa libreria ma quando l'ho progettato ho dovuto far fronte a un problema ossia che qua a fianco c'è già un altro meccanismo e quindi non avevo molto spazio per poterlo costruire e quindi ho dovuto ingegnarmi per poterlo fare. Ma ora ragazzi non perdiamo tempo vado a prendere il necessario e iniziamo la costruzione. Allora per costruire questo meccanismo ho bisogno di sei observer ne ho già due perfetto prendiamo un po di redstone prendiamo quattro pezzettini di quarzo e andiamo a craftarli. Allora è un meccanismo che non facciamo spesso l'observer però è molto molto potente. Andiamo a mettere qua e qua mettiamo la redstone e facciamo i quattro observer che ci servono. Poi ho preso due repeater mi serve una lampada di redstone perché vedrete questa è una cosa molto interessante e tre pistoni appiccicosi penso di sì. Ok ragazzi io credo di avere tutto quanto la redstone ovviamente già ce l'ho la cobblestone ce l'ho direi che possiamo andare a costruire. Ok col mio piccone con silk touch ho tolto le librerie come vedete qua appunto c'è il meccanismo di cui vi parlavo prima che non possiamo assolutamente toccare quindi dobbiamo accontentarci di uno spazio 3x3. Allora qua dobbiamo fare un buco profondo 5 blocchi e ovviamente andare ad aprire per il momento fino a qua per avere lo spazio sufficiente quindi direi così è 1 2 3 4 e 5. Allora questo è lo scavo che ho fatto per ospitare il nostro meccanismo. Allora dobbiamo iniziare nel punto dove andremo a mettere la libreria che dovrà aprirsi e iniziamo a costruire una cosa del genere. Facciamo così con la cobblestone poi andiamo a mettere qua un repeater e lo mettiamo con il massimo ritardo possibile così ok poi qua sopra andiamo a mettere della redstone ok e sopra questa redstone andiamo a mettere il primo observer. Allora lo mettiamo vediamo se riesco no da qua non riesco quindi facendo così non riesco a piazzarlo giusto. Aspettate devo piazzarlo bene ok così è meglio e lo piazziamo con la faccia verso il basso praticamente quindi con la parte con il segnale di redstone in questa maniera ok poi da questa parte dobbiamo andare a mettere un altro observer che andiamo a piazzare praticamente sopra questo blocco qua quindi andiamo su lo piazziamo verso di noi quindi in pratica così ragazzi ok e sotto qua quindi sotto adesso ho tolto la torcia quindi la vado a rimettere lì sotto qua mettiamo un altro observer rivolto verso il basso la potenza di questi observer è che riescono praticamente a far passare il segnale di redstone in uno spazio molto molto piccolo ed è quello appunto che ho bisogno per questo meccanismo poi procediamo mettendo ora dei pistoni appiccicosi ne mettiamo uno rivolto verso questa parte qua e due rivolti verso l'alto uno così e uno così che saranno i due pistoni che andranno ad abbassare i due blocchi della libreria per aprire il meccanismo proseguiamo ora il lavoro da questa parte mettiamo la lampada di redstone in questo punto è importante che questa sia una lampada poi qua andremo a portare il segnale da questa parte ovviamente dovremo allargare un pochino qua e togliere la scala quindi faremo passare il segnale di qua ok c'è anche qua il nostro canyon quindi vediamo di chiudere ok così non ci dà fastidio e qua andremo a portare il segnale da quest'altra parte qui togliamo pure la scala per il momento poi la rifaremo da un'altra parte e qua andremo da questa parte anche qui c'è il canyon da chiudere ok perfetto chiudiamo tutto non diamo fastidio a nessuno ok anche qua direi di chiudere così va bene poi andiamo a proseguire da questa parte ora qui dobbiamo andare a mettere un observer rivolto verso l'alto qui quindi facciamo così ok poi ne mettiamo un altro qua direi di fare così per essere sicuri di metterlo nella posizione giusta così e un altro sopra quest'altro observer così ok vedete che si è azionato tutto poi è importante che qua mettiamo un blocco e un altro anzi altri tre blocchi li dobbiamo mettere qua sopra che sono in pratica il nostro pavimento quindi li andiamo a mettere così perfetto ora facciamo la parte per azionare tutto quanto il meccanismo che in pratica si aziona nel momento in cui andiamo accendere questa lampada quindi io direi qua di fare con la redstone un altro percorso così vediamo un po di metterla la redstone così poi possiamo salire qua di uno ok quindi scusate non ho messo la cobblestone ok saliamo eva bad tech ok un altro qua e qua sopra andremo a mettere la leva quindi dobbiamo sacrificare diciamo un po la decorazione lì però non è un grosso problema facciamo così e così ok ragazzi io direi che posso salire adesso quindi metto una scala qua che così mi permette di salire un attimo poi andremo a sistemare e proviamo il nostro meccanismo ok la leva come vi dicevo devo andare a piazzarla qua sopra anzi la possiamo si la possiamo mettere qua sopra ragazzi allora facciamoci la leva ok leva perfetto e la mettiamo qua devo vedere se qua sotto ho il meccanismo posto ovviamente no cobblestone ok così e qua redstone ok ci siamo questa volta ci siamo per davvero ragazzi eh allora adesso andiamo a completare la nostra libreria dobbiamo andare a rimettere eh tutti i quanti i blocchi eh che abbiamo tolto prima eccola qua allora facciamo così e piazziamo la libreria quindi così un due tre un due tre e uno due e tre adesso ragazzi è il momento di provare il nostro passaggio apriamo ok ha funzionato vedete c'è un passaggio due per uno e se facciamo così si richiude yeee ragazzi funziona funziona ragazzi passaggio segreto in uno spazio davvero davvero angusto poi qua dobbiamo chiudere così e qua mettere un mezzo blocco va bene faccio questa cosa un attimino off camera sistemo anche la scala è sotto e poi probabilmente possiamo anche proseguire un pochino con il lavoro bene il lavoro da questa parte è terminato ragazzi come vedete qua è esattamente come l'abbiamo eh visto all'inizio quindi non si capisce che lì c'è un passaggio se invece andiamo qua dietro ovviamente c'è la nostra leva eh top secret e andiamo ad aprire ok e poi andremo a costruire il passaggio che potrà continuare già da questa parte poi eh qua ho fatto eh una scala per poter accedere eh al meccanismo come sempre quindi qua possiamo andare a vedere come è fatto ed eventualmente ci fossero dei problemi andarlo a sistemare quindi possiamo chiudere e possiamo proseguire adesso con il nostro passaggio se siete arrivati fino a questo punto siete anche curiosi di sapere che cosa ho in mente adesso andiamo a costruire una piccola stanza eh da questa parte allora voglio scendere un po' di blocchi quindi andiamo a mettere intanto delle torce qui andrò a decorare tutto con molta molta calma quindi ragazzi oggi non è il momento per fare le decorazioni ma per costruire eh questa cosa allora andiamo qua scendiamo con un altro blocco e direi di scendere un terzo blocco qua allora ho la pala sì perfetto andiamo a far così mettiamo un'altra torcia e scendiamo un terzo blocco qua ok in questa maniera penso che eviteremo eh problemi con altre stanze che ci sono qua di fianco adesso andiamo ad aprire qua togliamo la terra togliamo eh la gravel togliamo tutto quanto e andiamo ad aprire una piccola stanza adesso non la voglio far grande perché ripeto non è questo eh l'episodio dove andremo a decorare questo posto ma è l'episodio dove andremo a costruire adesso ve lo rivelo un lanciatore per elitra sì ragazzi praticamente ho pensato di fare una specie di lancia missili dove il missile però saremo noi con l'elitra e quindi spunteremo fuori nel giardino praticamente della casa e potremo volare in giro per il mondo questo ci assicurerà di poter arrivare velocemente all'esterno della casa senza dover salire le scale uscire fuori eccetera eccetera ragazzi è un progetto davvero fantastico però adesso datemi il tempo di scavare questa piccola stanza e poi vi faccio vedere tutto quanto ok questa è la nostra stanza ragazzi qui ci sarà il lanciatore dopo vi faccio vedere come si costruisce e qua adesso dobbiamo fare un buco tre per tre che arriva fino alla parte esterna della casa quindi è un lavoro abbastanza lunghino non esagerato anche perché non siamo tanto in basso ma vedrete il cunicolo è abbastanza ampio lo faccio off camera e poi costruiamo il lanciatore e siamo pronti al primo lancio dunque dovremmo essere quasi arrivati in alto ok è esattamente quello che mi aspettavo cioè il tronco di un albero che è il punto che avevo calcolato per l'uscita di questo cunicolo benissimo tra l'altro è notte ragazzi quindi adesso devo anche stare attento ai mob altrimenti mi danno una mano anche loro a scavare ok questo è il punto dove usciremo siamo più o meno dietro la costruzione che abbiamo fatto lo scorso episodio ma comunque su una piccola collina vado a dormire e poi proseguo con lo scavo allora le piante qua sopra dovranno essere tagliate anzi le ho già tolte dovrebbero andare via le foglie e adesso dobbiamo scendere fino alla stanza che abbiamo costruito poco fa per poter arrivare a fare tutto diciamo il tubo di lancio ok ragazzi il buco è fatto come vedete l'ho anche rivestito tutto con la pietra ovviamente questa ripeto non è la decorazione definitiva e non è nemmeno definitivo il fatto che quel buco in alto sia aperto altrimenti scenderebbero un sacco di mob cadrebbe dentro di tutto ma ho pensato anche questo non lo andremo a fare ovviamente oggi ma uno dei prossimi episodi andremo a sistemare adesso vado a prendere dell'acqua perché è quella che mi serve direi 4 di questi qua quindi 1 2 3 e 4 e andiamo a preparare il nostro lanciatore lanciatore molto molto semplice l'ho costruito un po di tempo fa sulla spiaggia forse avevo fatto anche vedere come funzionava dobbiamo mettere qua due scale così e qua fare un buco profondo due blocchi e riempire tutto quanto con dell'acqua quindi molto molto semplice il meccanismo o meglio come funziona questa cosa andiamo a riempire anche qua quindi facciamo così e facciamo così ok saliamo e dovrebbe essere l'altro secchio d'acqua che manca dobbiamo metterlo qua perfetto che ci crediate o no il lanciatore è pronto come funziona beh adesso vado a prendere le litra e vi faccio vedere intanto andiamo a riempire i quattro secchi e a rimetterli nella cassa e andiamo a prendere le nostre litra e finalmente ragazzi siamo pronti al primo lancio spaziale della vanilla di tech allora andiamo a prendere i razzetti li mettiamo qua indossiamo le litra ok e prepariamoci al primo lancio come funziona allora noi dovremmo scendere da questa scala mentre scendiamo questa scala dobbiamo aprire le litra tenendo premuto lo spazio dopodiché noi rimarremo praticamente in una posizione tipo missile all'interno dell'acqua ci basterà far partire un razzetto e verremo sparati verso l'alto olè siamo pronti ragazzi pronti al lancio 3 2 1 fuoco ragazzi è bellissimo yeee abbiamo fatto il lanciamissili yes ragazzi no sono troppo contento di questo lavoro perché lo desideravo un sacco lo desideravo un sacco ed è un po che sto pensando a tutto questo progetto e finalmente sono riuscito a realizzarlo yes ragazzi yes allora naturalmente ve lo ripeto ancora una volta perché poi leggerò centomila commenti qua non rimarrà questo buco aperto mi inventerò qualcosa e vedrete ci sarà un altro bellissimo circuito di redstone ovviamente andremo a camuffare tutto quanto sistemeremo la collina qua c'è un po di lavoro da fare ma lo faremo ovviamente nel prossimo episodio ragazzi io non vedo davvero l'ora di proseguire i lavori di costruzione di questo lanciatore spero davvero che questo episodio vi sia piaciuto sto cercando di portarvi novità qualcosa che normalmente non si vede in una serie vanilla e spero che possiate apprezzare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e so che molti di voi seguono la serie ma non sono iscritti e ovviamente di lasciare un bel like per farmi sentire la vostra presenza a questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio ciao a tutti ciao